Per introdursi all'interno hanno forzato presumibilmente con un piede di porco la porta d'ingresso, poi una volta dentro hanno rovistato ovunque ed infine si sono dati alla fuga con la cassaforte. Un colpo che è stato messo a segno in una sala scommessa di via Poggilupi nel comune di Terra Nuova, Bracciolini. È successo questa notte ma l'allarme è scattato solamente all'apertura del punto. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati infatti gli addetti alle pulizie questa mattina. Una volta dentro i malviventi, tre o quattro incappucciati con i guanti addosso dopo aver cercato dappertutto si sono diretti verso la cassaforte che sono riusciti a portare via. Il bottino potrebbe superare i 10.000 euro ma è ancora in corso la quantificazione. Sul posto questa mattina i carabinieri che hanno immediatamente dato avvio alle indagini. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di video e sorveglianza interne ed esterne alla ricerca di elementi utili per risalire l'identità dei responsabili del furto. La sala scommessa si trova solamente a pochi metri dal locale dove lo scorso ottobre fu ucciso un 38enne Joella Ramirez Seipo ferito a morte a seguito di una rissa nel piazzale della discoteca.